La pannellatrice possiamo dire che sia il cuore dell'impianto Schneel Home per la produzione di pannelli in polistirene armati con reti d'acciaio. La macchina, alimentata da sei bobine, inserisce i connettori attraverso la lastra di polistirene e li salda alle due reti esterne. Quindi, a partire dalle lastre di polistirene già tagliate e dalle reti già prodotte, la pannellatrice produce il pannello sandwich che è alla base del sistema costruttivo Schneel Home. La stessa macchina può produrre tutte le tipologie di pannelli, sia che siano destinati all'utilizzo come pareti o come solai. La capacità di produzione della pannellatrice è di 1600 metri quadri in otto ore di lavoro, che che vuole a dire produzione di pannelli per 5 case di 85 metri quadri l'una. La macchina è molto semplice da utilizzare ed è caratterizzata da elevate performance in termini di capacità di produzione e qualità del prodotto finale, garantita dall'elevato livello di automazione della macchina stessa.